Oggi ci troviamo a Revigliasco, a pochi chilometri da Asti, dove Cesare Quaglia, alla terza generazione della famiglia Quaglia, coltiva cultivar antichi. Diciamo che l'azienda nasce con il nonno, anche lui Cesare, con una coltivazione tradizionale dei grani, poi prosegue con Papa Mario, che invece si dedica più a un'agricoltura moderna, mentre oggi Cesare Quaglia propone il cultivar antichi all'interno dell'azienda agricola Agricoltura Indigena. Cesare, buongiorno. Allora, cosa stai facendo oggi? Allora, io sto raccogliendo alcune spighe di grano antico Verna. La mia azienda agricola ha sede a Variglie, frazione di Asti. Siamo qui vicino alla frazione, che è il comune di Revigliasco, dove, ad esempio, anche nel comune vicino a Antignano, altri campi, e coltivo questi grani antichi. In questo caso particolare è il grano Verna, che è un grano degli anni 40, che è stato un incrocio tra un grano a baldostano e un grano svizzero. Questi grani qua sono meno produttivi, sono di taglia maggiore, e come vedete, nonostante la stagione molto difficile per i frumenti quest'anno, date le grandi piogge e l'umidità, in realtà questo grano è bello sano, è in piedi, ha un po' di infestanti, perché d'altronde non uso il diserbo, e le piogge tardive quest'anno hanno fatto sì che non potessimo contenere molto l'erba, perché appunto sono state molto intense. Ecco, perché Cesare ha appunto scelto un'agricoltura interamente biologica, e pertanto i cambiamenti climatici, certo che impattano sull'agricoltura in generale, sul biologico, per alcuni aspetti sono ancora più penalizzanti. Ad occhio Cesare, come distingo questo grano antico dai grani tradizionali? Allora, intanto ti dono un paio di spighe, perché sappiamo che nella nostra cultura il grano, fonte del pane, è naturalmente sacro, e quindi è importante coltivare e mantenere la biodiversità, perché il frumento, i grani, ne abbiamo a disposizione tantissime varietà, sia antiche che moderne. Si presta il grano a essere incrociato, come questo grano antico appunto, però nello stesso tempo ha ogni varietà le sue caratteristiche. Nel caso dei grani antichi, in particolare il verna, ma non solo, intanto noi ne distinguiamo la spiga, che può essere o arristata, quindi con i baffi oppure no, questa è una spiga senza riste, e poi dalla forma e soprattutto dall'altezza. I grani antichi sono più alti, e quindi... Alti quanto? Mediamente? Mediamente anche un metro e sessanta, anche uno e settanta, a seconda della stagione, del terreno, ci sono grani che possono essere anche molto alti. Sotto il punto di vista nutrizionale e del sapore, in che cosa si discosta da quello tradizionale? Beh, intanto hanno proprio, come dire, una caratteristica, un insieme organolettico più vario, più completo, nel caso ad esempio dei grani antichi, hanno buone proteine, non hanno molto glutine rispetto ai grani più moderni, nel caso ad esempio del Verna, è uno dei grani che è stato testato tra i migliori in termini di qualità a livello italiano, perché è ricco di polifenoli, è ricco di composti minerali, quindi completo. Chi sono gli altri coltevar antichi che tu produci? Allora, io quest'anno ho anche un grano duro antico, che è il senatore Cappelli, che ho avuto in eredità da alcuni colleghi dalla Basilicata e dalle Puglie. Sono anche ricercati, voglio dire. Sì, e mi collego anche al fatto che col cambiamento climatico, anche nell'Italia del Nord e nel Piemonte, in questo caso in Piemonte, riusciamo mediamente a avere delle buone qualità di grano duro. Infatti io poi la trasformo in semola e farina e faccio anche la pasta. Quindi non voglio, come dire, uscire dalla domanda, ma facendo la conversione al biologico e coltivando varietà antiche, ho anche voluto chiudere la mia filiera di produzione. Ecco, e come resa invece? Queste sono rese minori, diciamo almeno un 30-40% in meno, però le farine di grani antichi hanno un valore maggiore e quindi diciamo che il rapporto costi-benefici è comunque pari alle altre coltivazioni e se uno è bravo a valorizzare il proprio prodotto, magari con la filiera corta, nei mercati di Campagna Amica, facendo anche una buona promozione del prodotto particolare che nel nostro caso ha l'identità di un agricoltore e di un territorio, quindi si può anche, come dire, ottenere un valore aggiunto superiore anche perché vengono apprezzati molto queste farine antiche. Ecco, ma tu com'è che hai scelto di introdurre questa produzione così diverse da quelle tradizionali? Ma io sin da quando avevo una trentina d'anni ho sempre cercato di, come dire, innovare un po' l'attività di famiglia, dell'azienda agricola. Intanto ho iniziato più di vent'anni fa a coltivare la canapa e poi mi sono interessato anche ai cereali antichi. Qualche anno fa ho coltivato anche il famoso mai sotto file rosso, l'ameglia d'urè, che tra l'altro è una a coltivare, le sementi sono qua, di un paese di Antignano, un paese qua vicino, quindi ho avuto i colleghi che mi hanno dato questo patrimonio di biodiversità molto apprezzato, i grani antichi, il Verna, faccio anche un misto di grani antichi, un miscuglio che sto, come dire, seguendo anche come popolazione e lì ad esempio ci sono varie varietà di grani antichi, Frassinetto, il Mentana, il Gentil Rosso, il Verna, il Senatore Cappelli e quindi anche lì cerchiamo di valorizzare la biodiversità contestualizzandola nella maniera di coltivazione che è quella biologica e anche, diciamo, territoriale. Insomma, Cesare ha veramente, come dire, una narrazione importante da offrire a tutti coloro che scelgono i suoi prodotti. I suoi prodotti, ne ha parlato prima, a filiera corta, si possono trovare al mercato contadino di Corso Alessandria 271 ad Asti e c'è un'ampia offerta, un ampio dettaglio, quindi dai grani ai trasformati e soprattutto alla sua speciale narrazione di tutto quello che c'è dietro a queste coltivazioni speciali.